Trimopoli Domenica 7 luglio, Beato Benedetto 11esimo è il 188esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 177 al termine il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 21.01 la luna si leva alle 10.54 e tramonta a mezzanotte nel corso di una crociata l'esercito cristiano dopo 5 mesi di assedio espugna la città di Tiro il giovane Domenico Michiel alla testa delle truppe veneziane ottiene il possesso di un terzo della città alla quale vengono dati un governatore veneziano, leggi veneziane e una magnifica chiesa dedicata a San Marco le previsioni per domani tempo da variabile a localmente instabile specie in montagna con schiarite alternate da densamenti nuvolosi previsti alcuni rovesci e temporali più frequenti sulle zone montane a parte valori minimi localmente stazionari o in dove aumento sulla costa le temperature diminuiranno in modo più sensibile riguardo alle massime a